Attimi di paura in via Sarnano a Pesaro, 5 mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d'incendio nel vano tecnico dei contatori di un condominio. Asfalti, rotatorie, ristrutturazioni, piste ciclabili, parcheggi e vari interventi in diversi quartieri di Pano, il punto con l'assessore Barbara Brunori, lunedì al via i lavori in Viale Battista. Premiati gli studenti vincitori del concorso creativo Be Responsible, un progetto per formare, informare e prevenire gli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga. Fano TV trasmetterà in diretta l'ordinazione episcopale di Monsignor Andrea Andreozzi che domenica fermo verrà consacrato vescovo della diocesi di Pano Fossombrone Cagli-Perroa. Sempre su Fano TV il documentario di Gastone Mazzanti, una volta a Fan Cereni-Campanì, domenica sera la prima delle cinque puntate di 45 minuti ciascuno. 142 eventi, oltre 180 ospiti e 16 rassegne librarie, dal 21 al 25 giugno torna a Fano Passaggi Festival, tra le novità la rassegna sull'economia, la sede al Bastione Sangallo e il nuovo spazio allestito nei giardini del Pincio. Cristina D'Avena ha inaugurato il Boomerang Rewind Festival in programma fino a domenica al Lido di Fano, il Codma invece al Via Marche Winner Show, l'evento dedicato agli amici a quattro zanne. A Cagli torna il raduno delle bande musicali, mentre a Cerasa di San Costanzo la festa delle osterie. Nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia, ben trovati a questa nuova edizione di Fano TV. Attimi di paura questa mattina in zona Tombaccia, a Pesaro, per un principio di incendio che ha interessato un condominio in Via Sarnano al Civico 7. il fumo, salito fino al dodicesimo piano, ha creato il panico tra gli inquilini che sono stati fatti evacuare. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. Come dinamica dell'incendio c'è stato un principio di incendio, comunque è interessato il divano tecnico dei contatori e da lì il fumo poi si è propagato lungo la tromba delle scale all'ingresso degli appartamenti, quindi c'è stato un attimo di panico tra il personale che abitava, tra gli abitanti degli appartamenti e noi come prima cosa abbiamo fatto un'evacuazione di tutta la palazzina, cautelativamente, fin tanto che poi siamo riusciti a individuare l'incendio che è interessato il vano tecnico del contatore. Niente di grave, per fortuna, quindi si è comunque risolto. Al momento quindi devono aspettare che la ditta ripristina il vano contatore. Per fortuna non è successo niente di grave, tutto è sentito a controllo perché comunque il condominio è sistemato dal punto di vista del piano di evacuazione funzionato perfettamente, quindi tutto a posto. Abbiamo anche dei capi scala molto efficienti del condominio che hanno aiutato e sensibilizzato le persone, giusto per ringraziarmi. E torniamo a parlare dei lavori pubblici a Fano. Oggi l'assessore Barbara Brunori ha fatto il punto sui cantieri aperti e sugli interventi che partiranno nei prossimi giorni. Abbiamo una città in grande fermento sicuramente, a partire da questo pomeriggio dove abbiamo inaugurato la pista ciclabile, spostandoci in vari quartieri della città, non solo al centro. Partiamo dal Vallato. Al Vallato è il sottopasso dove abbiamo fatto dei lavori di riqualificazione, quindi lo abbiamo riconsolidato, i lavori sono terminati, è stato ripitturato al meglio. Ora mancano i punti luce che essendo telecontrollati da ASET arriveranno i primi di luglio e a quel punto il sottopasso sarà terminato, se non che la prima settimana disponibile i ragazzi della scuola Polloni sono pronti per farci due murales in tutti i perimetri laterali. Da lì ci spostiamo al Parco Urbano, il Parco Urbano i lavori sono ripresi con grande dinamismo, anche qui manca l'ultimo tratto dalla ciclabile, quello che congiunge il primo tratto che va dai giochi e il secondo dal centro commerciale. Mancava il terzo che si lega a quella che è l'area degli arredi che lo stanno lavorando e la casa della custode invece che è proprio l'Ilimitrofa, la prossima settimana proprio affideremo i lavori perché la gara è conclusa, anche in questo caso abbiamo già rimossi i rifiuti ed è pronta a partire. Sempre più vicino, sempre dall'altra parte della strada abbiamo la PAMTRAC, abbiamo allistito il cantiere, stanno già sfalciando un po' tutta l'area, i lavori sono ufficialmente partiti, ci spostiamo a Casaferri, a Casaferri c'è il rifacimento del tetto quindi anche in quel caso siamo a buon punto, i lavori dovrebbero essere riconsegnati per novembre e sempre per restare nei paraggi abbiamo il sintetico del Vallato dove anche in questo caso per fine agosto, i primi di settembre attendiamo la fine lavori, anche in questo caso i lavori stanno andando molto celermente. A Fenile sono partite delle asfaltature e anche la rotatoria che stiamo realizzando con la provincia sta lavorando con il suo ritmo e a San Lazzaro siamo invece in questo momento su Viale Mariotti dove appunto c'è un progetto di rifacimento del marciapiede, pista ciclabile e tutto l'asfalto proprio per dare a questo asse una nuova vestibilità ma nello stesso tempo anche una nuova percorribilità partendo dal presupposto che vogliamo facilitare sicuramente la mobilità leggera. È un intervento che da lì si sposterà poi a Sant'Orso, a Sant'Orso dove anche in questo caso ci sarà proprio tutta la parte di Sant'Orso vecchia che verrà riqualificata in questo senso con delle zone a traffico moderato, quindi zone 30. Rio Crinaccio è a buon punto, i lavori appunto di aumento della sezione di quello che è il deflusso delle acque in questo momento stiamo attenendo i lavori di ASE per quanto riguarda i sottoservizi per poi procedere all'espansione. In centro storico Bastione San Gallo abbiamo selezionato quello che è la gradazione della pavimentazione in levoce che sarà sotto il bastione e quindi nella prossima settimana dovrebbero arrivare i materiali per poi finire il lavoro dove ci sarà anche un importante lavoro di riqualificazione luminosa che quello è già stato realizzato. Sempre per restare in centro storico in piazza Marcolini i lavori naturalmente per andare ad indagare quello che sono lo spostamento dei rifiuti quindi della pavimentazione che è stata smantellata attendiamo i pareri da Arpan contemporaneamente diciamo che tutto lo studio archeologo che stanno facendo siccome sono emerse delle parti di pavimentazione stanno indagando per cercare di assistere il cantiere e lunedì ripartirà a pieno ritmo e lunedì partiranno anche i lavori di Viale Battisti proprio perché ci troviamo in un contesto di città. Sempre per restare in uno dei servizi della città il parcheggio del forobuario è a buon punto stiamo lavorando nell'ultima sezione per metà luglio dovrebbe essere riconsegnato alla città L'ultima vorrei chiudere con le asfaltature perché in questo momento abbiamo cinque ditte sparse per tutta la città e la periferia partendo da Via Flaminia, l'anello di Piazza del Popolo, in zona industriale e la prossima settimana saremo a Lido anche con il nuovo appalto per cui una città sicuramente dinamica, veloce e che è pronta oggi ad ospitare tanti nuovi cantieri e quindi opportunità. A proposito di messa in sicurezza delle strade questa sera viene asfaltata la rotatoria tra Via Roma e Via Flaminia all'altezza del bar Badioli i lavori proseguiranno anche nella notte e a Fano ripartono gli incontri con la cittadinanza per discutere del nuovo piano regolatore generale gli appuntamenti previsti nei mesi di giugno e luglio hanno un duplice scopo da un lato informare i cittadini su cosa sia un piano regolatore e su come questo vada a cambiare la vita dei quartieri dall'altro mira a coinvolgere chi vuole dare suggerimenti all'amministrazione per lo sviluppo della città la prima data del calendario è prevista per sabato 17 alle 9.30 alla parrocchia di Fenile da dove si partirà per una passeggiata per immaginare come il quartiere si trasformerà per poi fermarsi nelle stanze della parrocchia dove i cittadini insieme ai tecnici del comune potranno visionare le tavole e dibattere sulle proposte verranno analizzati anche i quartieri di Carignano e Roncosambaccio nel pomeriggio invece incontro rivolto a Cucurano, Carrara e San Cesario dalle 16.30 alle 19.30 nella nuova scuola di Cucurano e a Pesaro nella mattinata di ieri sono stati premiati gli studenti vincitori del contest creativo riguardante il progetto Be Responsible Marco Lonigro Be Responsible, un progetto per informare, formare e prevenire gli incidenti stradali correlati al consumo di alcol e droga promosso dal comune di Pesaro e da Prefettura, Questura, Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Università di Urbino e dal Comitato di Pesaro della Croce Rossa italiana premia studenti e scuole del suo contest creativo questo è un progetto di cui per anni in questi ultimi anni si è parlato poco ma in realtà oltre che essere molto attuale è un progetto importante che deve coinvolgere le giovani generazioni e da lì aumentare quel tipo di sensibilità che è proprio in quella fase di formazione e di crescita importante ed è per questo che siamo partiti proprio da ragazzi delle scuole e poi anche dell'università ma che in realtà si rivolge a tutti è un tema di cui per tanti anni si è parlato ma serve sempre mantenere l'attenzione alta senza dimenticare appunto che la sensibilità rispetto a queste tematiche è comunque un lavoro che va fatto quotidianamente e che vede questa volta l'amministrazione locale in prima linea il concorso chiuso il 25 maggio si è rivolto ai giovani tra i 14 e 18 anni della provincia a cui è stato chiesto di elaborare uno storyboard di un video e la grafica di un murales in linea con il tema del progetto ad aggiudicarsi il premio in paglio per il miglior storytelling è stato il duo composto dai fratelli Riccardo Scaloni del liceo scientifico Marconi e Leonardo Scaloni del liceo artistico Mengaroni entrambi riceveranno un buono da 500 euro spendibile per una patente di guida come nasce la vostra idea? allora la nostra idea nasce dalle fondamenta per la nostra passione sia mia che di mio fratello verso il mondo del cinema e del teatro e quindi abbiamo visto subito in questa in questa occasione un'opportunità nel mettersi in gioco abbiamo voluto attuare per questa tematica particolare il non esplicito nel senso leggendo e vedendo nel nostro storyboard la storia che abbiamo voluto rappresentare non c'è in maniera esplicita l'incidente, ciò che succede ma mettiamo, evidenziamo il 360 gradi attorno al fatto ovvero tutte le reazioni e le situazioni che si potrebbero andare a creare a seguito dell'incidente, dell'accaduto quindi ciò che è una cosa che potrebbe sembrare individuale quindi una cosa che poi va a ledere se stessi in realtà è una cosa che lede tutte le persone che ti vogliono bene e che ti stanno accanto è di Leonardo Scaloni anche il miglior progetto di street art ho voluto realizzare nel murales, ci ho voluto inserire molti simboli più che altro e ho appunto inserito tantissimi simboli come ad esempio una macchina ribaltata che è proprio la fine che si può fare anche semplicemente con qualche bicchiere in più oppure in un laghetto di sangue, di vino che poi simboleggia anche il sangue ci ho inserito anche una paperella gialla che è un po' il simbolo dell'infanzia quindi anche di quelle persone che magari ci rimangono coinvolte in queste tragedie anche se poi in realtà non ne fanno parte, non c'entrano nulla e non hanno colpe e Fano TV trasmetterà in diretta l'ordinazione episcopale di Monsignor Andrea Andreozzi che domenica 18 giugno alle ore 17 nella cattedrale di Fermo verrà consacrato come vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola vi ricordo che Fano TV è visibile in tutta la regione Marche sul canale 19 del Digitale Terrestre ma anche in streaming sul nostro sito occhioadanotizia.it alla pagina diretta domenica sera invece alle ore 21 trasmetteremo la prima delle 5 puntate del documentario una volta a Fan Ceren i Campanì immagini, testimonianze e documenti ripercorreranno questa triste storia della pagina fanese grazie al lavoro di Gastone Mazzanti che abbiamo intervistato Mazzanti Fano ha un triste primato in Italia quello di essere la città con il maggior numero di campanili distrutti durante la guerra lei ha cercato di far luce su questa devastazione che ha cambiato per sempre l'immagine e la storia della città di Fano quando è nata l'idea di questo documentario? ma direi quasi subito appena sono andato sono stato collocato in pensione quindi risale addirittura al 1987 ho pensato subito di fare questo lavoro però non è stato possibile perché c'erano delle difficoltà soprattutto per il problema maggiore era quello costituito dalla difficoltà nel reperire la documentazione necessaria e quindi prima mi sono dedicato ad altri lavori mi è rimasto proprio questo problema riuscire in quello che era il desiderio maggiore quello di rendere tutta la popolazione specialmente i giovani di quello che è accaduto nel 1944 in sintesi che cosa racconta attraverso questo documentario? raccontiamo naturalmente ecco io chiedo un po' di calma per quelli poi che osserveranno spero che siano tanti la vostra trasmissione perché il titolo parla chiaro una volta fan c'erano i campanili ma la distruzione dei campanili la vedremo nella terza puntata quindi non affrettatevi perché uno può dire subito ma cosa fa questo? cosa parla? invece verrà alla terza puntata forse il pezzo più bello è quello della ricostruzione dei campanili che l'intenzione nostra è quella di visitare tutte le scuole comprese gli elementari della città e poter regalare la chiavetta dove sono raccolte le cinque puntate in maniera che gli insegnanti poi possano far vedere ai ragazzi agli scolari, agli studenti quello che c'è C'è qualche mito da sfatare? ma il mito da sfatare è quello che diceva la gente che i bombardamenti li hanno eseguiti soprattutto gli inglesi con la Royal Air Force e gli americani niente di tutto questo, è vero anche loro hanno buttato le bombe per esempio i gabuccini sono stati gli inglesi lei dice come fa a vedere sta roba perché documenti presi proprio dagli archivi nazionali britannici e statunitensi quindi la maggior parte delle bombe le hanno buttate sull'africano specialmente e soprattutto sui ponti al Metauro erano gli obiettivi principali i due ponti sul Metauro e come avete visto dal nuovo cartello le puntate andranno in replica il lunedì successivo alle 16.20 e il martedì alle ore 9 sabato 17 giugno invece torna il raduno delle bande musicali della provincia di Pesaro e Urbino organizzato dall'Associazione Nazionale Bande Musicali l'evento Piazza Banda farà tappa a Caglia alle ore 18 con la parata delle bande musicali per le vie della città ed un momento musicale d'insieme in Piazza Matteotti in questa locandina potete vedere elencati tutti i gruppi partecipanti e questa mattina è stata presentata a Fanno l'undicesima edizione di Passaggi Festival che torna dal 21 al 25 di giugno con 142 eventi oltre 180 ospiti e 16 rassegne librarie vi saranno addirittura 5 anteprime nazionali e temi di grande attualità come quello proposto dal libro di Pietrangelo Buttafuoco su Berlusconi di cui è stata anticipata l'uscita Massimo Foghetti Mancano pochi giorni all'inizio del Festival Passaggi che porrà Fanno al centro dell'attenzione nazionale in fatto di editoria grazie alla presentazione di tutti i best seller della saggistica su temi di attualità storia, economia, arte, letteratura e biografie in 11 anni il Festival ha raggiunto una notorietà che l'ha posto al pari delle principali manifestazioni che si svolgono in argomento l'attuale edizione tiene alto il suo prestigio per i personaggi che presenta aggiungendo alla presentazione di libri laboratori, mostre, incontri con gli autori masterclass, salotti letterari letture in spiaggia e iniziative per bambini questa mattina le nuove proposte del Festival sono state presentate dall'assessore regionale alla cultura Chiara Biondi dal sindaco Massimo Seri dal presidente dell'associazione Passaggi che organizza l'evento Cesare Carnaroli e dal direttore organizzativo Giovanni Belfiori dal 21 al 25 si svolge l'undicesima edizione del Festival Passaggi un festival che ha grandi numeri e grandi personaggi cominciamo dai numeri Giovanni Belfiori i numeri che li leggo perché a memoria non mi ricordo però sono numeri interessanti perché noi abbiamo in 5 giorni di festival 142 eventi 184 ospiti 16 rassegne 96 libri 68 case editrici coinvolte e 120-125 persone dello staff che gestiscono il festival quindi è davvero un impegno io direi un impegno enorme e se non ci fosse quel numero di volontari quelle persone che danno la mano Passaggi sarebbe impossibile da organizzare anche perché come tu dicevi ci sono anche grandi ospiti Natascia Stefanenko Paolo Stella Paolo Borzacchiello abbiamo che so Nando dalla Chiesa che torna ancora con un libro nuovo Pietrangelo Buttafuoco abbiamo Gianfranco Fini insomma davvero è un festival vario e credo interessante veniamo alle novità le novità guarda ne ho appena citata una il libro di Pietrangelo Buttafuoco beato lui biografia dell'arce italiano Silvio Berlusconi doveva uscire a fine giugno e poi gli eventi hanno fatto sì che arrivasse in libreria qualche giorno fa avrò l'onore e anche l'onere di intervistarlo insieme a Massalenti abbiamo Paolo Nori un grande scrittore amatissimo che verrà venerdì sempre in piazza 20 settembre venerdì 23 abbiamo questo duo che potrebbe sembrare un duo canoro ma non è Nando dalla Chiesa che presenta il suo libro La legalità è un sentimento e con lui sul palco c'è chi? Gigliola Cinquetti Lucia Annunziata premio Andrea Barbato lo storico Franco Cardini premio Passaggi l'economista Stefano Zamagni che verrà il giorno d'apertura mercoledì 21 al Chiostro delle Benedettine concludiamo con le location quali ribalte ospiteranno il festival nella città? Nel centro storico abbiamo la piazza 20 settembre dove ci sono i nomi più popolari poi abbiamo la chiesa di San Francesco poi abbiamo la Mediateca a fianco della Memo c'è il Chiostro delle Benedettine rassegne tematiche sala da te lucellin belverde tutti i pomeriggi alle 6 e mezza conversazioni scientifiche andiamo al Pincio al mare Bonbon Lido di Fano presentazioni di saggi al mattino Bagnelsa Fosso 6 ore presentazioni di saggi e libri anche qui per un pubblico giovane bagni torrette quindi andiamo all'estremità sud di Fano mostre alla Mediateca Montanari nella residenza municipale del comune di Fano di via San Francesco al pari centro di via Montevecchio caffè centrale centrale edicola enoteca terra un evento importante una vetrina per la città momento culturale molto alto una grande occasione anche di crescita e di confronto con gli autori protagonisti dell'anno in corso ho un pizzico d'orgoglio perché è l'undicesima edizione e ne ho vissute da sindaco 10 a dimostrazione che ho creduto molto in passaggi festival e passaggi festival non ha deluso perché in questi anni è cresciuta veramente tantissime con numeri straordinari per cui è un grande momento come dicevo di vetrina di promozione e di attenzione verso la nostra città anche l'assessorato alla cultura del comune di Fano ha aderito alle giornate europee dell'archeologia previste fino al 18 giugno in particolare sarà possibile visitare la Domus di Piazza 20 Settembre l'Anfiteatro Romano e l'Ipogeo sotto la chiesa di Sant'Agostino per i più piccoli sono stati organizzati diversi laboratori con la possibilità di partecipare ad una simulazione di scavo o di realizzare il modellino di una casa romana in occasione delle GEA giornate europee dell'archeologia anche gli altri sei comuni aderenti alla rete museale della Via Flaminia quindi Colli al Metauro Fossombrone Fermignano Acqualagna Cagli e Cantiano hanno reso accessibili al pubblico le loro strutture museali le visite accompagnate e i laboratori organizzati dal Comune di Fano e dall'Archeoclub d'Italia sono totalmente gratuiti mentre l'ingresso al Museo del Palazzo Malatestiano è consentito con l'acquisto del biglietto ordinario ha preso il via oggi pomeriggio al Codma il Marche Winner Show l'evento dedicato agli amici a quattro zampe che si svolgerà fino a domenica per gli amanti per gli amanti dei cani la città di Fano accoglie da oggi venerdì 16 fino a domenica 18 giugno il Marche Winner Show l'evento dedicato agli amici a quattro zampe in programma al Codma di Rosciano ben 170 razze di cani presenti per un totale di circa 2000 esemplari e circa 500 allevatori che verranno premiati da una giuria proveniente da tutto il mondo tre giorni di manifestazione così chiamata comunemente esposizione cinofila canina altro non è che una verifica morfologica di quello che i nostri allevatori italiani e internazionali fanno nel loro mestiere un gruppo di esperti giudici giudicherà qual è il lavoro che loro hanno fatto e gli assegneranno delle qualifiche in tutti e tre i giorni le procedure saranno questo perché questo fa parte del lavoro di ogni allevatore è andare in queste manifestazioni a verificare che cosa hanno fatto che cosa hanno prodotto ci sono tantissime razze da poter vedere e invito tutta la città di Fano e anche le altre città gli altri paesi vicini limitrofi chiamiamoli come vogliamo a intervenire venire a visitare questa manifestazione Quali sono le razze presenti e come si suddividono le giornate? questa manifestazione quest'anno ha tre esposizioni Fabriano Pesaro e Ancona le razze più rappresentative come al solito sono Labrador Gold Lagotti queste tre razze hanno anche un raduno il sabato pomeriggio domani sabato avremo la nazionale di Pesaro con inizio alle 9.30 con ring d'onore alle ore 14 e nel pomeriggio alle ore 14.45 avranno inizio i raduni di razza Gold Retriever Labrador Retriever e Lagotto Romagnolo domenica invece con gli stessi orari del sabato inizieremo alle 9.30 i giudizi e alle 14.30 avrà inizio il ring d'onore la manifestazione di livello internazionale organizzata dall'ente nazionale cinofila italiana è ad ingresso gratuito Codma di Fano torna a vivere l'esposizione cinofila internazionale con oltre 200 razze in esposizione quindi la possibilità per chi vorrà di andare a vedere il meglio delle razze canine nazionali e internazionali e con tante persone che per questo arriveranno nella città di Fano appunto per questa esposizione quindi un'altra occasione per la città per essere attrattiva per mostrarsi per fare turismo ed economia a Lido di Fano invece nel tardo pomeriggio è stato inaugurato il Boomerang Rewind Festival presente al taglio del nastro la madrina dell'evento Cristina Davino qual è il programma di stasera allora questa sera abbiamo il karaoke seguirà i Catch the Giant poi abbiamo Cristina Davena in concerto e andiamo a chiudere la serata con un DJ set Matteo Pietrelli Matteo Pietrelli sì invece domani? domani domani ospitiamo il grande Francesco Baccini ma la serata inizia sempre con il karaoke perché questo lo avremo tutte le sere dalle 8 alle 9 e a seguire Baccini e poi chiuderà la serata una band che ci farà sognare agli anni 80 poi anche domenica ma non solo musica si mangia anche qua si mangia si balla si gioca si salta si sgomma sulle macchine sportive tante cose divertimento per adulti ma anche per bambini sì per tutte le età ci sono anche emozioni si vive di emozioni immagino in queste tre giornate assolutamente sì tant'è che abbiamo parlato di ospiti come non ricordare il nostro ospite sportivo anche Totò Schillaci dei mondiali di Italia 90 che tanto ci hanno fatto rivivere delle belle emozioni e proprio qui ce l'avremo con un'intervista sul palco e poi assieme a lui potremo anche addirittura andare a cena in merito alle cene volevo ricordarvi che abbiamo allestito un ristorante pensate ris-tot-tanta cioè con un menù completamente anni 80 allora possiamo questa è la dimostrazione che indietro nel tempo si ritorna sartorna sartorna e ci spostiamo a Cerasa di San Costanzo dove il 17 il 18 giugno torna la festa delle osterie cerasa in festa a questo fine settimana Mirko che cosa avete organizzato per la dodicesima edizione dell'evento allora come tutti gli anni il terzo weekend di giugno da 12 anni a questa parte Cerasa si apre al pubblico per mostrare diciamo la sua parte migliore che a partire dal cibo quindi apriamo 4-5 osterie per offrire al meglio sia piatti della tradizione che piatti un po' più moderni diciamo e la cosa nuova la cosa bella è che tutte le materie prime sono acquistate dai fornitori del territorio quindi dal pasticciere dal fornaio del paese al macellaio quindi sono tutti piatti a chilometro zero rivisitati dalle cuoche e dei cuochi del paese per offrire un buon prodotto ovviamente si mangia meglio in buona musica in buona compagnia della musica e quindi anche per quest'anno al sabato abbiamo scelto gli sciampisti che sono un po' il gruppo che va per la maggiore in questo periodo la domenica ci sarà un tributo a Ligabù e il Bar Mario poi dopo visitando un po' il centro storico attraverso i veicoli attraverso le mura abbiamo anche altri luoghi del paese in cui abbiamo dei vari DJ abbiamo nei giardini pubblici anche dell'animazione per i bambini quindi cerchiamo di offrire un prodotto completo a che ora prenderà il via la manifestazione? ora l'evento comincerà alle 18.30 e per chi non lo sapesse Cerasa è un piccolo borgo situato a 10 minuti di macchina da Fano tra San Costanzo e Piaggia vi aspettiamo quindi a braccia aperte sabato e domenica alla festa dell'osteria Cerasa Il 14 giugno è stata celebrata la giornata mondiale del donatore di sangue per l'occasione Avis Fano ha consegnato i tesserini ai nuovi donatori e messo in scena un flash mob Condividi la vita condividila spesso è lo slogan che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha coniato per celebrare questa giornata in realtà l'Avis la nostra associazione è sempre presente nella società nel territorio e sempre risponde continuamente ai bisogni di raccolta di sangue e plasma perché comunque le esigenze ci sono Comunque in una giornata come questa è importante sottolineare che da un lato un episodio simbolico si è già svolto questa mattina quando la bandiera Avis è stata posizionata insieme alle bandiere dell'Italia e del Comune di Fano sopra nel pennone del Palazzo Comunale quindi significa che l'Avis è nel territorio è nella realtà dialoga con tutte le associazioni con tutti gli organizzi con l'amministrazione con tutti i cittadini e questa sera abbiamo fatto questo piccolo flash mob che ci ha consentito di consegnare tesserini ad alcuni donatrici donatori che si sono iscritti all'Avis da poco che hanno effettuato la prima donazione e poi questo flash mob nonostante il maltempo invita le persone a rendersi conto del tema della solidarietà della necessità che il sangue è una esigenza continua e costante e perché grazie al sangue e al plasma si salvano tante vite e questa era la nostra ultima notizia subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato a Centrale Festival l'appuntamento invece con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa grazie per essere stati con noi e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti